Davanti alla stazione di polizia di Chimkia, alla periferia di Mosca, i sostenitori dell'oppositore russo Alexei Navalny si sono dati appuntamento per chiedere a gran voce la sua liberazione. Il giudice del distretto locale lo ha condannato ad una pena di 30 giorni, ancora per la revisione della pena condizionale del 2013. L'udienza si è svolta stranamente nella stalla da concerto della stazione della polizia locale. Ho visto tante di quelle scempiaggini nella giustizia russa. Sembra che Putin abbia talmente paura di tutto che affrontano tutto con un tono di sfida e hanno buttato nella spazzatura il codice di procedura penale. Quello che sta succedendo qui è incredibile. Navalny è sbarcato in Russia domenica e ha rientrato dalla Germania, dove ha trascorso diversi mesi in seguito ad un tentativo di avvelenamento. Secondo gli esperti occidentali, si è cercato di ucciderlo con l'uso dell'agente Nervino Novichok. L'esponente politico è poi stato arrestato al momento del passaggio alla Dogana, all'aeroporto di Cermitievo, di Mosca. Questo è un segnale alla società. Non ti agitare, sta in silenzio. Tutto è sotto controllo. Se protesti o scioperi ti arrestiamo. Non ci si rende conto dello stato delle cose o pensano che non sia importante. Così lo hanno trasformato al livello di un accademico, di un Andrei Sakharov. I seguaci di Navalny lo hanno aspettato all'aeroporto Moscovita di Nukovo, dove sono stati arrestati a decine, mentre il volo di Navalny è stato dirottato sul maggiore scalo di Mosca per evitargli un ingresso trionfale. In previsione dell'arresto il dissidente aveva registrato anche questo video. Ma di cosa ha paura questo rospo? Di cosa hanno paura questi topi da bunker? Lo sai bene, hanno paura di chi protesta per strada. Hanno paura di te.